io non ho il coraggio no non sei pronto non ce l'ho sto coraggio non sei pronto io ti dico solo che ho aggiunto tra i miei preferiti di tiktok almeno 150 video la maggior parte dei quali sono riuscito qualcuno me lo so spoilerato ne stavo assenti e reagiremo adesso insieme perché lui ovviamente non ha visto nulla altri li ho salvati e sono passato avanti quindi alcuni per me sono al buio come per te ma io ve lo dico immediatamente siccome qua c'è materiale almeno per altri 4 o 5 video e non sto scherzando se lascerete su questo contenuto almeno 7000 like abbassiamo leggermente il tiro rispetto ai 10.000 domani vi portiamo immediatamente un nuovo episodio o comunque nell'esatto momento in cui arriveranno 7000 like esce subito un nuovo episodio non vi costa niente avete aperto il contenuto se vi diverte vedere questi video vi basta semplicemente lasciare like mi raccomando nel contenuto precedente siamo a 7500 fatelo arrivare a 10.000 quel contenuto dai su veramente ci si può fare se non lo avete visto andatelo a recuperare perché veramente ci sta da ride e soprattutto continuate a fare meme sui nostri spezzoni di video su tiktok e taggateci ragazzi così li aggiungo e poi ci reagiamo se ciao ben ritrovati ciao ragazzi se non lo avete ancora fatto seguiteci e attivate le notifiche cliccando sulla campanella così ogni volta che pubblichiamo qualcosa non vi perdete più niente restate sempre aggiornati ce la fate sta cortesia un giorno tra 10 anni vorremmo arrivare a un video di iscritti che ve costa pure la like iscrizione e campanella che cosa vi costa non vi costa niente due canali di calcio un canale extra calcio in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video Fabio mi sto per senti in macio ho paura di vomitare a sto giro te lo dico te lo dico poi leggete qua sotto nei commenti il migliore di quelli che avete visto in questo contenuto 3 2 1 pie andiamo sei pronto no l'ultima volta ci siamo fermati qui si vabbè quello è stato proprio quello della tazzina del caffè ragazzi andate a recuperare il primo episodio solo se ci ripenso mi sento male cominciamo da questo allora non è possibile facciamo capire P.O.V Gabbo Man inizia a seguirti perché ho cominciato a seguire Gabbo Man meme non è possibile non è possibile l'ho fatto veramente questo l'ho fatto veramente non è possibile questo la partenza è così ma questo ti ricordi che era aspetta era dei uno dei spocchi su Cassano e ci ripensava mi sa quando aveva detto gioca per Verona mi sa che era quel periodo ok aveva firmato per Verona poi ci ha ripensato e poi ci ha ripensato l'ultimo ha lasciato perdere e si è ritirato può essere può essere c'è raga si mi ricordavo che era un video su Cassano questo inverno allora è una classica giornata d'inverno il giorno dopo hai due interrogazioni e tre verifiche ma ti scrive un tuo amico per dirti che hanno chiuso le scuole per allerta meteo sempre capo questo è tratto da una storia vita chi di voi non l'ha fatto quando andava da squadra tutti 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 assolutamente pronto? guarda qua allora io che mostro la rosa del fantacalcio al mio compagno di squadra che non ha potuto fare l'asta fate insieme ovviamente la squadra è la stessa per tutte e due ho preso Bernabè a 150 crediti io sempre capo MMM 16.000 like questo mamma mia guarda ma la patacca David mi sei fatto cuore con una casa da dorsa oh qualcuno va taci tua mortacci c'ho parole chi mi si piano ah non lo sapeva ancora non lo sapevi Bernabè a 150 crediti 2016 2015 2017 vibes 2016 ho passato i 10 anni quasi ma tu te rendi conto che bello ciao mamma mia che vi ricordo pronto? è il 2020 devi fare le video lezioni ma prima decidi di andare in bagno e quando torni trovi una nota sul registro e mille messaggi dei tuoi amici che ti chiamano perché la prof ti doveva interrogare 24.000 like fermi 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 che cazzo è successo stavo cagando stavo cagando mi è arrivata l'anuditore subito dopo subito prima non lo ricordo manco pure Fabrizio Romano c'ho parole pure Fabrizio Romano c'ho parole giustamente è un periodo di quarantena mamma mia comunque ci vuole una ci vuole pure fantasia ce vuole fantasia devi seguirci ovviamente e poi te devi far venire in mente in determinati pezzi non è facile fare i meme te sfidiamo fateci dei meme ribadiamo 13.500 clamoroso del clamoroso rimane di bala allora a quel punto ma che cazzo ma che quale rimane di bala mi avevate per male mi avevate per male non mi credeva nessuno cioè mi credeva nessuno meno che mo clamoroso clamoroso rimane di bala detto no tu però mi avevi detto che in mezzo ci credevi si si non l'avevo detto quindi te bevavano veramente per male te bevavate veramente per male fa preparate perché stanno arrivare peggio preparate anche per oh ma che? ah no no scusami no mi stavo confondendo questo 213.000 più questo 172.000 ammazza vai questo pronto qua c'è sta parecchio da legge è il 2019 e tu e il tuo socio siete riusciti a prendere Cristiano Ronaldo al fantacalcio arriverete ultimi lo stesso per risparmiare i presi importa Olsen e in difesa hai preso Ankersen e non so qua che c'è sta scritto vabbè comunque ok dateci rimessa laterale non mi ricordo manco che gol era ma chissà quanti anni scrivetecelo qua sotto nei commenti quanti anni ho c'ho i capelli corti massimo sono due anni fa sì effettivamente sì pronto è una sera d'estate il tuo socio ha chiuso lo scambio Lautaro vostro per Vlaovic suo ma quando schieri la formazione noti qualcosa di strano era quello dell'Atalanta vediamo poi dici che uno non deve bestemmiare a mezzanotte e mezza devo anche moderare i toni perché a una certa ora non si può manco alzare la voce ma me stavo per mettere a letto che cazzo che cazzo ti fa succedere ragazzi c'ho parole guarda i prof mettono l'ennesima verifica per la prossima settimana ok ci avete cacato ci avete rotto ci avete rotto ci avete insopportabili ci avete cacato fermate ok fermati pronto quando manca il prof di motoria e al suo posto viene la prof di matematica e inizia a separare i banchi 20.000 like non ci posso credere no questo pure tratto da una storia vera tratto da una storia verissima conto è che dici manca l'insegnante di matematica e arriva a quello di educazione fisica e al contrario al contrario ragazzi miei capite bene che ok è una mezza tragedia questo è bellissimo quando già che c'è stata la musica in sottofondo quando la tua fidanzata ti dice amore stai per diventare padre sei contento? guarda la faccia mia è tutto un programma ci ho parole guarda direi di no guarda che capelli pure tra l'altro non so di quanto tempo fa è parecchio eh non lo so allora quando in classe fate a gara su chi prende i voti più alti nella verifica e quello che prende sempre due riesce a prendere più di te il prof che aveva scommesso su di te sei stato capace di perde contro l'ultima in classifica che quest'anno dopo 23 partite non aveva vinta una manco per sbaglio è sbaglio manco per sbaglio tra l'altro ce l'avevi già perso e t'hai eliminato dalla Coppa Italia aggravante non è possibile non è possibile non è possibile l'Inter ha perso col Bologna stavi affrontando un periodo di forma buona con Spinazzola ritrovato con di pala ritrovato c'avevi una chiotta possibilità contro una squadra abbondabilissima dove i piatri una delle poche partite che sta stagione non potevamo permetterci di sbagliare era importante tale e tale a quella che hai giocato pochi giorni fa col Salisburgo mamma mia mamma mia Fabio questo cos'è? il banchile scuola va bene quando prendi quando prendi tre al compito di matematica per l'ennesima volta che cazzo è sbaglio da cazzo ma che partita era? era vecchia sicuramente vecchia ma non è che hai rigori taylor forse viglia no no c'hai i capelli lunghi quindi non può essere andiamo avanti quando fa così qualcuno li hanno rimossi li hanno rimossi porca miseria peccato quando la prof chiede a te il tuo bro il perché le verifiche siano uguali abbiamo preso quattro no perché qui la premessa è doverosa ma è anche abbastanza intuibile se pensiamo che domande fai è valese che abbiamo copiato che se siamo copiati vicenda POV o POV che dir si voglia a te e il tuo socio vi hanno alzato l'ennesima scommessa che volevate comprare a pochi crediti addio con i bali del Parma lo so ditemi voi ditemi voi se è un qualcosa di possibile se noi ogni volta siamo costretti a vedere sti spettacoli indecorosi perché questo per me per eccellenza è uno spettacolo indecoroso il roso come i bali del Parma che cazzo che è sto coso ma io penso che ieri sera quando sei costretto ad accompagnare tua sorella di cinque anni a vedere il film dei miei contro te ok Gesù Cristo e il Padre Eterno mi hanno lasciato l'esenzione mi hanno detto vai pure che è improponibile che sono stato costretto a vedere ma io penso che io è quello che sono stato costretto a vedere ma dato l'esenzione ma dato l'esenzione ma io me la ricordo me la ricordo si è vecchia io non ho parole però me la ricordo pronto la professoressa vi dice che si è andati bene alla verifica avete preso sei avete comunque quattro di media è quello di prima no è un altro ma tu te rendi conto cioè qui non ci stiamo rendendo conto di quello che sta per succedere non mi sto rendendo conto ma davvero ma sappiamo quello che sta per succedere però non riusciamo a realizzare che sei arrivi comunque a quattro di media ma vabbè è lo stessa esatto in tempo di guerra in tempo di guerra quando quello che prende 27 rifiuta il voto perché gli si abbassa la media con tutto quello che sta a succedere ma come cazzo ti permetti di dire cose di questo un minimo di rispetto nei confronti di gente che sta soffrendo nella realtà prende 18 14 7 in tempo di guerra con tutto quello che sta a succedere ho parole guarda ma tu li vanno a ripescare poi sti contenuti ma veramente cioè se devono secondo me puoi ricordare un po' hai appena perso la finale di Champions League contro il Tottenham questo però me lo ricordo che video è questo è Roma Juve 3 a 4 era 3 a 2 o 3 a 4 no 3 a 4 questo me lo ricordo benissimo perché qua mi sono sentito male qualsera me lo ricordo proprio bene ma sto video aspetta aspetta cacciate sto like tirate perla del giorno 10 febbraio 2017 quindi questo video è del 10 febbraio 2017 te lo faccio risentire cacciate sto like tiratelo fuori levate le putate e schiacciatelo con l'uccello ma quando cioè ma io ste cose dicevo già nel 2017 ma senza ridere vabbè sono state sempre dette no infatti io c'ho parole pronto? si scherzo a su le gli abbiamo fatto credere che Di Bala lasciasse la Roma a 10.000 like la faccia che su le ma pure la maglia ma guarda ma guarda è perfetto giallo rosso se lo guardiamo no ma se lo guardiamo quello che sta succedendo in questo periodo che non sta più a giocare è esatto cioè ragazzi miei è assurdo che è sta roba Gabbo 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 Sian dai l'hai visto? no però ho letto se legge Gabbo SSJ guarda guarda questa è bellissima guarda voi guarda voi c'è manca c'è manca di gaventi però ma non l'hanno fatti ma secondo me hanno usato vedi i Planet Namek hanno usato un filtro è un filtro sarebbe stato bello mettere oh come senti la musica dei Dragon Ball in sottofondo di Namek il gold d'animota questo era col Monza 1 a 1 molto recente meme spettacolare comunque grandissimo pronto? quando tu e il tuo bro venite estratti per l'interrogazione a sorpresa faccia più stupita? eh? faccia il temperato? io so più che faccia in vent'anni regà io tra un po' mi abbassi i pantaloni e mi faccio vedere le chiappe eh che tanto come a di se sapeva se sapeva ci avrebbero beccato a noi esattamente quando interroga vai interroga dalla lavagna quando la stai spogliando e a una certa spuntano due palle la reazione è più calma non mi dite che chi ha fatto secondo me mi ha tratto da una storia vera eh tutto può essere tutto può essere una serata a discoteca non si sa mai quello che può succedere tutto può essere io che chiamo il bro dopo l'asto del fantacoppie mi hai incaricato di farla perché lui lavorava come top ci abbiamo Krustovic e Zito lo bumbo 20 mila eh vabbè 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 mo che torno a casa sono cazzi ok va bene ciao facciamoci forza e affrontiamo la situazione che possiamo vincere ma che cazzo sono cazzi tua vabbè